buonasera in questo episodio di spettagami che è il più vicino in termini temporali alla ricorrenza della venuta di cristo nel mondo ho pensato di proporvi la lettura di un brano di alcune pagine dei karamazov che sono l'ultimo romanzo ridostoevsky e in particolare del poemetto del grande inquisitore che incontra cristo che è un poemetto che viene scritto da uno dei protagonisti che è iván karamazov uno dei figli e viene letto e spiegato a suo fratello aliosha iván è un è un giovane uomo molto molto intelligente con una cultura molto profonda e scrive questa storia e la racconta al fratello aliosha che invece è un tipo molto dolce molto molto buono e molto religioso e ometterò dalla lettura di queste pagine tutte le parti in cui si intravede un dialogo tra iván e aliosha soprattutto quando aliosha interrompe iván perché è sconcertato perché perché chiede spiegazioni e cercherò di leggere soltanto il racconto il poemetto puro tra virgolette isolandolo da da tutto quello che gli sta attorno e non so fino a che punto una lettura da parte di una voce femminile possa essere adatta a queste pagine però dal momento che le trovo particolarmente interessanti ho deciso di provarci lo stesso egli volle visitare almeno per un istante i suoi figli e proprio là dove cominciavano a crepitare i roghi degli eretici nella sua misericordia infinita egli passa ancora una volta tra gli uomini in quella stessa forma umana di quindici secoli prima discende verso le vie roventi della città meridionale dove proprio quella mattina in un grandioso auto da fe al cospetto del re della corte dei cavalieri dei cardinali delle più incantevoli dame di corte alla presenza del popolo tutto di siviglia erano stati fatti bruciare dal cardinale grande inquisitore un centinaio di eretici in una volta sola ad maiorem gloriam dei è comparso furtivo ed ecco che tutti questo è strano tutti lo hanno riconosciuto questo potrebbe essere uno dei punti migliori del poema ovvero perché esattamente lo riconoscono il popolo con forza invincibile tende a lui lo circonda gli si affolla attorno lo segue e gli passa in silenzio in mezzo a loro con un sorriso dolce di infinita compassione il sole dell'amore arde dentro il suo cuore i raggi della luce del sapere della forza fluiscono dai suoi occhi e riversandosi sugli uomini ne scuotono i cuori in una corrispondenza d'amore tende loro le mani li benedice e dal suo tocco dal semplice sfiorare le sue vesti emana una forza risanatrice ecco che dalla folla un vecchio cieco dall'infanzia esclama signore guariscimi e anch'io ti vedrò ed ecco che dai suoi occhi cade una sorta di squama e il cieco lo vede il popolo piange bacia la terra su cui lui cammina i bambini gettano fiori dinanzi a lui e cantano e gridano osanna è lui è proprio lui ripetono tutti deve essere lui non può essere che lui si ferma sul sagrato della cattedrale di siviglia nello stesso istante in cui nel tempio viene portata nel pianto una piccola bara bianca scoperchiata di una bimba dentro c'è una fanciullina di sette anni l'unica figlia di un eminente cittadino la bimba morta giace in mezzo ai fiori e gli farà risorgere la tua bambina gridano dalla folla alla madre piangente il prete della cattedrale uscito per accogliere la bara guarda perplesso e aggrotta le sopracciglia ma ecco che si leva l'urlo della madre della bimba morta e la si prostra ai suoi piedi e dice se sei tu allora risuscita la mia bambina e protende le mani verso di lui la processione si ferma la piccola bara viene deposta sul sagrato ai suoi piedi e gli guarda con compassione e le sue labbra pronunciano piano ancora una volta tali tacumi alzati fanciulla la bambina si solleva nella bara si siede e si guarda attorno sorridendo con i piccoli occhi aperti e stupiti tra le mani a un mazzo di rose bianche che aveva con sé nella bar tra il popolo c'è sconcerto si levano grida si inghiozzi ed ecco in quello stesso istante all'improvviso passa accanto alla cattedrale lungo la piazza il cardinale grande inquisitore in persona è un vecchio di quasi 90 anni alto ed eretto con il volto emaciato gli occhi infossati ma dai quali ancora emana un bagliore simile a una scintilla di fuoco no egli non indossa le sontuose vesti cardenalizie con le quali si rapavano il giatto il giorno prima dinanzi al popolo quando si bruciavano i nemici della fede di roma no in questo momento indossa soltanto il rozzo saio monastico alle sue spalle a una certa distanza lo seguono i suoi cupi aiutanti i suoi servi e la guardia sacra egli si ferma dinanzi alla folla e osserva da lontano ha visto tutto ha visto come hanno deposto la bara ai suoi piedi come la fanciulla è resuscitata e il suo volto si è fatto cupo aggrotta le folte sopracciglia canute e il suo sguardo riluce di un fuoco sinistro allunga un dito e ordina alle sue guardie di prenderlo ed ecco tale è la sua forza e a tal punto il popolo ormai avvezzo arrendevole ansiosamente obbediente che la folla subito si apre dinanzi alle guardie queste in un silenzio di tomba calato all'improvviso gli mettono le mani addosso e lo portano via la folla in un attimo come un solo uomo china le teste fino a terra dinanzi al cardinale inquisitore e questi in silenzio benedice il popolo e passa oltre le guardie conducono il prigioniero in una prigione angusta e tetra nell'edificio del santo uffizio e ve lo rinchiudono dentro trascorre il giorno cala la notte sivilliana scura densa e affosa l'aria profuma di lauro e di limoni in mezzo alla tenebra profonda all'improvviso si apre la porta di ferro della prigione il vecchio grande inquisitore in persona con una lampada in mano entra lentamente nella prigione è solo la porta alle sue spalle viene subito richiusa si sofferma accanto all'ingresso e a lungo per un minuto o due lo scruta in volto alla fine si accosta in silenzio posa la lampada sul tavolo e gli dice sei tu sei tu ma non ricevendo risposta aggiunge in fretta non rispondere taci cosa potresti mai dirmi lo so fin troppo bene quello che diresti non hai nemmeno il diritto di aggiungere alcunché a quanto già dicesti un tempo perché sei venuto a disturbarci perché lo sai anche tu che sei venuto a disturbarci ma tu lo sai cosa accadrà domani non so chi sei non voglio sapere se sei tu se sei lui se sei uno che gli assomiglia ma domani io ti condannerò io ti farò bruciare sul rogo come il più malvagio degli eretici e quello stesso popolo che oggi ti baciava i piedi domani ha un mio semplice cenno si precipiterà a tezzare il tuo rogo tu questo lo sai si forse lo sai soggiunse immergendosi nei propri pensieri senza però distogliere lo sguardo nemmeno per un momento dal suo prigioniero tutto è stato dato da te al papa e tutto dunque adesso è del papa tu puoi anche non farti vedere mai più o perlomeno non disturbare prima del tempo hai tu il diritto di rivelarci anche un solo segreto di quel mondo da cui provieni no non ce l'hai non ce l'hai se non vuoi aggiungere qualcosa a quanto è già stato detto in precedenza e se non vuoi togliere agli uomini la libertà che hai tanto difeso quando eri sulla terra tutto quello che di nuovo rivelerai è un attentato alla libertà di fede degli uomini perché appare come un miracolo mentre la libertà della loro fede tira più cara di ogni altra cosa già allora 1500 anni fa non eri tu allora a dire così spesso voglio rendervi liberi ma ecco che adesso hai visto questi uomini liberi sì questa faccenda ci è costata cara ma alla fine l'abbiamo portata a termine nel tuo nome per 15 secoli ci siamo tormentati con questa libertà ma adesso l'opera è finita è finita sul serio non ci credi che sia finita sul serio mi guardi con mitezza non mi degni neanche della tua indignazione ma sappi che adesso oggi questi uomini sono convinti più che mai di essere pienamente liberi e intanto sono stati loro stessi a portarci la loro libertà e mansueti l'hanno deposta ai nostri piedi ma questo l'abbiamo fatto noi ed era questo quello che volevi una simile libertà perché ora soltanto è diventato possibile per la prima volta pensare alla felicità degli uomini l'uomo è stato creato per essere un ribelle i ribelli possono forse essere felici ti avevano avvertito non ti erano mancati gli avvertimenti le indicazioni ma tu non hai prestato ascolto tu hai rinunciato all'unica via con la quale era possibile rendere felici gli uomini ma per fortuna andandotene hai affidato a noi la cosa hai promesso hai confermato con la tua parola e ci hai dato il diritto di legare e di sciogliere e certo non puoi pensare di sottrarci adesso questo diritto perché sei venuto a disturbarci lo spirito terribile e intelligente lo spirito dell'autodistruzione e del non essere lo spirito grande ha parlato con te nel deserto e nei libri a noi è stato riferito che ti ha tentato non è così ma si poteva mai dire qualcosa di più vero di quello che ti ha rivelato in quelle tre domande che tu hai rifiutato e che nei libri sono chiamate tentazioni semmai sulla terra è stato compiuto un autentico clamoroso miracolo è avvenuto quel giorno il giorno di quelle tre tentazioni proprio nella formulazione di quelle tre domande era chiuso il miracolo se fosse possibile pensare anche solo come ipotesi che quelle tre domande dello spirito terribile potessero scomparire senza lasciare traccia dai libri che fosse necessario riproporle ripensarle riformularle per inserirvele nuovamente e che per far questo venissero riuniti tutti i saggi della terra i governanti i sommi sacerdoti i dotti filosofi i poeti e che venisse affidato loro questo compito pensate formulate tre domande ma tali che non solo corrispondano alla portata dell'evento ma che esprimano soprattutto in tre parole in tre sole frasi umane tutta la futura storia del mondo e dell'umanità ebbene credi che tutta la sapienza della terra riunita assieme potrebbe inventarsi qualcosa di simile per forza e per profondità a quelle tre domande che ti furono poste da quello spirito possente intelligente nel deserto non fosse altro che da quelle domande dal semplice miracolo della loro formulazione è possibile capire che si ha a che fare non con un'intelligenza mortale e umana ma con un'intelligenza eterna e assoluta perché in quelle tre domande è racchiusa predetta tutta la successiva storia dell'umanità si manifestano le tre forme nelle quali convergeranno tutte le insolubili contraddizioni storiche della natura umana su tutta la terra allora questo non poteva essere ancora così evidente perché il futuro era ignoto ma adesso che sono passati 15 secoli vediamo che tutto in quelle tre domande è stato a tal punto previsto e predetto e a tal punto si è avverato che non è possibile aggiungere o togliere alcun che decidi tu stesso che aveva ragione tu o colui che allora ti interrogava rammenta la prima domanda anche se non ha la lettera al senso era questo tu vuoi andare nel mondo ci vai a mani vuote con una qualche promessa di libertà che gli uomini nella loro semplicità e innata sregolatezza non possono nemmeno concepire e della quale hanno paura la temono perché per l'uomo e per la società umana nulla è mai stato più intollerabile della libertà ma vedi quelle pietre in quel nudo deserto infuocato trasformali in pani e l'umanità ti correrà dietro come un gregge grata e docile anche se in eterno timorosa l'idea che tu possa ritirare la tua mano e che i tuoi pani possano finire ma tu non hai voluto privare l'uomo della libertà hai respinto l'offerta che libertà può mai esserci così hai ragionato se la docilità è comprata con i pani tu obiettasti che non di solo pane vive l'uomo ma sai tu che in nome di quello stesso pane terreno insorgerà contro di te lo spirito della terra e combatterà con te e ti sconfiggerà e tutti lo seguiranno esclamando chi è pari a questa bestia essa ci ha dato il fuoco del cielo lo sai che passeranno i secoli e l'umanità proclamerà per bocca della sua sapienza e della scienza che non esiste il delitto e dunque nemmeno il peccato esistono solo gli affamati sfamali e poi chiedi loro la virtù ecco quello che scriveranno sul vessillo che innalzeranno contro di te e per il quale andrà in rovina al tuo tempio al posto del tuo tempio verrà innalzato un nuovo edificio una nuova spaventosa torre di babele e anche se nemmeno questa verrà portata a termine come la precedente tu comunque avresti potuto evitare questa nuova torre e abbreviare di mille anni la sofferenza degli uomini perché si verranno a noi dopo aver patito per mille anni con la loro torre ci scoveranno di nuovo sotto terra nelle catacombe nascosti perché di nuovo saremo perseguitati e torturati e ci troveranno e ci grideranno sfamateci perché ci hanno promesso il fuoco dal cielo ma non ce l'hanno dato e allora noi finiremo di costruire la loro torre perché la porterà a compimento colui che sfamo diremo che lo facciamo nel tuo nome o mai mai potrebbero sfamarsi senza di noi nessuna scienza darà loro il pane fino a quando rimarranno liberi e andrà a finire che deporranno la loro libertà ai nostri piedi e ci diranno fate pure di noi degli schiavi ma sfamateci alla fine capiranno essi stessi che libertà e pane terreno per tutti sono impensabili insieme perché mai mai sapranno dividerselo fra loro si convinceranno anche che non potranno mai essere nemmeno liberi perché sono deboli viziosi inconsistenti e ribelli tu hai promesso loro il pane celeste ma te lo torno a ripetere può esso essere paragonato al pane terreno agli occhi della progenie umana che è debole eternamente viziosa eternamente ingrata e se in nome del pane celeste ti seguiranno le migliaia e le decine di migliaia che ne sarà dei milioni e delle decine di migliaia di milioni di esseri che non avranno la forza di disdegnare il pane terreno per quello celeste o a te sono cari soltanto le decine di migliaia di esseri grandi e forti e restanti milioni innumerevoli come la sabbia del mare i deboli ma che ti amano devono soltanto servire da materiale per i grandi e i forti no noi sono cari anche i deboli sono viziosi e ribelli ma alla fine diventeranno anche obbedienti ci ammireranno ci considereranno degli dei per il fatto che noi mettendoci alla loro testa abbiamo accettato di farci carico della libertà e di dominarli a tal punto sarà alla fine terribile per loro essere liberi e noi diremo che obbediamo a te e che li dominiamo nel tuo nome li inganneremo di nuovo perché allora non ti lasceremo avvicinare in questo inganno consisterà la nostra sofferenza perché noi dovremmo mentire ecco cosa significava quella prima domanda nel deserto ed ecco quello che hai rifiutato in nome della libertà che tu hai posto al di sopra di ogni cosa e tra l'altro quella domanda racchiudeva il grande segreto di questo mondo accettando i pani avresti dato una risposta all'angoscia incessante e sempiterna dell'essere umano come pure dell'intera umanità che è dinnanzi a chi inchinarsi non esiste preoccupazione più assillante tormentosa per l'uomo rimasto libero che cercare al più presto colui davanti al quale inchinarsi ma l'uomo cerca di inchinarsi dinanzi a quello che è indiscutibile talmente indiscutibile che tutti gli uomini di un colpo siano disposti a inchinarsi tutti al suo cospetto perché la preoccupazione di queste penose creature non consiste solo nel cercare colui dinanzi al quale io o un altro ci si possa inchinare ma nel cercarne uno tale che tutti credano e si inchinino dinanzi a lui e che immancabilmente questo avvenga tutti assieme ecco questa esigenza di comunanza nell'adorazione davvero il tormento principale di ogni singolo e dell'intera umanità dall'inizio dei secoli per via di questa adorazione universale si sono sterminati a vicenda hanno creato dei e a vicenda si sono sfidati così sarà fino alla fine del mondo persino allora quando scompariranno nel mondo anche gli dei si inginocchieranno davanti agli idoli e tu lo sapevi tu non potevi non conoscere questo segreto fondamentale della natura umana ma tu hai rifiutato l'unico vessillo assoluto che ti veniva offerto per costringere tutti a inchinarsi dinanzi a te senza alcuna discussione il vessillo del pane terreno e l'hai rifiutato in nome della libertà e del pane celeste guarda quello che hai fatto in seguito e di nuovo tutto in nome della libertà ti dico che l'uomo non ha preoccupazione più tormentosa di come trovare colui al quale consegnerà al più presto quel dono della libertà col quale quest'infelice viene al mondo ma si impadronisce della libertà degli uomini solo colui che ne calma la coscienza dai il pane e l'uomo si inchina perché non esiste nulla di più indiscutibile del pane ma se qualcuno poi si impadronisce della sua coscienza o allora butterà via anche il tuo pane seguirà colui che avrà seduto la sua coscienza tu e in questo avevi ragione avevi ragione perché il segreto dell'esistenza umana non sta solo nel vivere ma anche in quello per cui si vive senza un chiaro concetto del per cosa si vive l'uomo non accetterà di vivere piuttosto si ucciderà ma non resterà sulla terra anche se attorno a lui non ci fossero che pani è così ma cosa ne è venuto fuori invece di impadronirti della libertà degli uomini tu gliel'hai aumentata o hai dimenticato che la quiete e persino la morte sono più care all'uomo della libera scelta tra il bene e il male non c'è nulla di più seducente per l'uomo della libertà della sua coscienza ma non c'è nemmeno nulla di più tormentoso ed ecco che al posto dei saldi fondamenti capaci di mettere in pace la coscienza umana una volta per tutte tu hai preso tutto quello che c'è di insolito di enigmatico e di indefinito hai preso tutto quello che superava le forze degli uomini e perciò hai agito come se non li amassi affatto e chi ha fatto tutto ciò colui che era venuto per dare la propria vita per loro invece che impadronirti della libertà della gente gliel'hai accresciuta e hai sovraccaricato coi suoi tormenti il regno spirituale dell'uomo per sempre hai voluto il libero amore dell'uomo affinché egli liberamente ti seguisse da te sedotto e affascinato invece dell'antica salda legge l'uomo doveva con cuore libero decidere da solo da quel momento in poi che cosa fosse bene che cosa fosse male avendo come unica guida dinanzi a sé la tua immagine ma possibile che tu non abbia pensato che alla fine egli avrebbe respinto e contestato persino la tua immagine e quel che di vero era in te se l'avessero gravato con un così terribile peso quello della libertà di scelta alla fine esclameranno che quel che è vero non è in te perché non era possibile abbandonarli in preda a un maggiore turbamento e a più tormenti di quanto tu abbia fatto lasciando loro tante preoccupazioni e questioni irrisolvibili in tal modo tu stesso hai posto le basi della rovina del tuo regno e in questo non dar più la colpa a nessuno e cosa ti veniva offerto invece ci sono tre forze le uniche tre forze sulla terra capaci di avere la meglio nei secoli e di affascinare la coscienza di questi deboli ribelli per la loro felicità queste forze sono il miracolo il mistero l'autorità tu hai rifiutato la prima la seconda e la terza e sei stato tu stesso a dare l'esempio quando lo spirito terribile e sapiente ti mise sulla cima del tempio e ti disse se vuoi sapere se sei il figlio di dio buttati di sotto perché di lui si dice che gli angeli lo sosterranno e lo sorreggeranno e non cadrà non si farà alcun male e allora saprai se sei il figlio di dio allora dimostrerai quale sia la tua fede nel padre tuo tu dopo aver ascoltato rifiutasti l'offerta non ti lasciasti convincere non ti buttasti di sotto o certo allora agisti con fierezza in modo magnifico come un dio ma gli uomini la debole razza ribelle non sono dei no allora capisti che facendo un solo passo un solo gesto di buttarti di sotto avresti anche tentato il signore avresti perso tutta la tua fede in lui e ti saresti sfracellato sulla terra che è rivenuto a salvare avrebbe gioito lo spirito intelligente che ti stava tentando ma lo ripeto ce ne sono molti come te è possibile che tu abbia effettivamente potuto supporre anche solo per un momento che anche gli uomini avrebbero avuto la forza di resistere a una simile tentazione è forse fatta la natura umana in modo tale da rifiutare il miracolo e da affidarsi solo alla libera decisione del cuore in simili momenti terribili della vita i momenti più terribili degli interrogativi dello spirito i fondamentali tormentosi tu sapevi che la tua impresa sarebbe stata conservata dai libri che avrebbe raggiunto la profondità dei tempi e gli ultimi confini della terra e contavi che seguendoti anche l'uomo sarebbe rimasto con dio senza aver bisogno del miracolo ma non sapevi che appena l'uomo rifiuta il miracolo subito rifiuta anche dio perché l'uomo non cerca tanto dio quanto i miracoli e siccome l'uomo non ha la forza di restare senza miracoli se ne creerà di nuovi ormai suoi propri si inchinerà al miracolo di un ciarlatano di una stregoneria da baba forse pure cento volte un eretico ribelle senza dio non sei sceso dalla croce quando te lo hanno gridato schernendoti ed ridendoti scendi dalla croce e crederemo che sei tu tu non sei sceso perché di nuovo non volevi soggiogare l'uomo col miracolo e agognavi una fede libera e non fondata sul miracolo agognavi l'amore libero e non gli entusiasmi servili dello schiavo di fronte alla potenza che lo ha terrorizzato una volta per tutte ma anche in questo hai sopravvalutato gli uomini perché certo sono schiavi anche se sono creati in forma di ribelli guarda e giudica sono passati 15 secoli vada loro a dare un'occhiata chi hai tu innalzato fino a te te lo giuro l'uomo è stato creato più debole e più vile di quanto tu pensassi può forse può dunque compiere quello che hai compiuto tu stimandolo tanto tu hai agito come se avessi cessato di averne compassione perché da lui hai preteso troppo e questo l'ha fatto colui che ha amato l'uomo più di se stesso stimandolo di meno avresti anche preteso di meno da lui e questo sarebbe stato più prossimo all'amore perché più lieve sarebbe stato il suo fardello egli è debole e vile che importa se adesso ovunque si ribella al nostro potere va fiero del suo ribellarsi è l'orgoglio del bambino e dello scolaro sono bambini piccoli che in classe si ribellano e cacciano fuori il maestro ma arriverà alla fine anche per l'entusiasmo dei ragazzini la cosa costerà loro cara abbatteranno i templi inonderanno di sangue la terra ma alla fine questi stupidi bambini si accorgeranno che anche se sono ribelli sono ribelli deboli non sono in grado di sopportare la loro stessa rivolta versando le loro stupide lacrime alla fine confesseranno che colui che li aveva creati i ribelli voleva senza dubbio alcuno ridere di loro lo diranno in preda alla disperazione e quello che diranno sarà una bestemmia per via della quale saranno ancora più infelici perché la natura umana non sopporta il sacrilegio e finisce sempre per vendicarsene e quindi inquietudine turbamento infelicità ecco l'attuale destino degli uomini dopo che tu hai tanto sopportato per la loro libertà il tuo grande profeta dice nella sua visione e nella sua parabola che ha visto tutti i partecipanti alla prima resurrezione che per ciascuna tribù ce n'erano dodicimila ma si erano tanti allora anche loro più che uomini dovevano essere dei hanno sopportato la tua croce hanno sopportato per decine di anni la fame e il nudo deserto cibandosi di locuste di radici adesso puoi certo con orgoglio mostrarci questi figli della libertà del libero amore del loro libero e magnifico sacrificio nel tuo nome ma rammenta che erano in tutto solo alcune migliaia e per di più dei e tutti gli altri di che cose sono colpevoli i rimanenti deboli uomini che non hanno potuto sopportare quello che hanno sopportato i possenti di che cosa è colpevole l'anima debole che non ha la forza di accogliere dei doni così terribili ma è possibile che tu sia davvero venuto soltanto dagli eletti e per gli eletti ma se è così qui c'è un mistero e noi non possiamo capirlo e se c'è un mistero allora anche noi avevamo il diritto di predicarlo e di insegnare loro che non è importante la libera decisione dei loro cuori nell'amore ma il mistero al quale debbono assoggettarsi ciecamente persino contro la propria coscienza e così abbiamo fatto abbiamo corretto la tua impresa e l'abbiamo fondata sul miracolo sul mistero e sull'autorità e gli uomini si sono rallegrati di essere nuovamente condotti come un gregge e di vedere che dai loro cuori veniva tolto quel terribile dono che aveva procurato loro tanti tormenti avevamo ragione a insegnare a fare così dimmelo forse che non amavamo l'umanità riconoscendone così umilmente l'impotenza alleggerendo con amore il suo fardello e permettendo la sua debole natura anche il peccato ma con il nostro permesso perché adesso sei venuto a disturbarci auguro a ciascuno di voi che il cristo torni ogni anno a disturbarvi e che vi tampini proprio